ciao a tutti sono simone di simone e simone questo overwatch 2 strategie migliori prevedono un piano b però devo usare diva vediamo come va sono una pippa non ho ancora sbloccato le competitive però che ne diresti se ti costruissi il nuovo mech? dov'è? non saprei ho sentito che alle tue invenzioni servono 5 minuti per avviarsi è successo una volta sola 5, 4, 3, 2, 1 è iniziato si vola mi raccomando là fuori persaglia a tiro, fuoco fermi la matrice difensiva la mia barriera è stata questo è tosto mi sembra se c'è un medico che mi aiuta ok ti ho messo fuori gioco ti proteggo io la cosa bella di diva è che ha colpi infiniti l'universo l'universo no attivo C'è un po' di gente fastidiosa oggi, eh? Mi piace la sua abilità che sblocherò tra poco. Il mio mech esplode, e questa è l'abilità figa che ha. Mi sto sovraccaricando! Sottomettiti al mio volente! Oh! Un'altra milla c'è! Oh! Un'altra milla! Un'altra mille! Un'altra mille! Un'altra mille! Un'altra mille! Un'altra mille! Yes! E non giamo gente a caso! Un'altra mille! Un nano incazzoso! Un'altra mille! È il momento di sfogarsi! Un'altra mille! Un'altra mille! Un'altra mille! Un'altra mille! Un'altra mille! Grazie a tutti.